Musica 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 Buonasera Allora, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie Voi avete partecipato così come tutte le altre scuole ad altre puntate di Sassari in piazza Ma secondo lei poi alla fine serve anche far conoscere le scuole? Sì, serve molto Bene, voi fate parte di un ente importante ma di questo ne parleremo dopo Invece presentiamo il ballo, prego Allora, le nostre ragazze della scuola di ballo MCP S.K.Dense Balleranno un singolo, un'altra Prego, S.K.Dense Grazie 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 per la visione 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 Grazie per la visione